Non deve essere un momento che ci dimentichiamo. Oggi, domani, queste celebrazioni sono fondamentali sia per ricordare quello che è accaduto, perché non accada mai tutti, perché quella violenza, quella violenza neofascista, lasciata in una traccia, in una ferita profonda nel nostro Paese, è per dire quanto è importante il ruolo del sindacato. Oggi, domani, questo è un'unità di sicurezza della vita del nostro Paese. Siamo qui per testimoniare esattamente questo. La Meloni dice che neanche c'è il governo, già la sinistra scende in piazza. A cosa si riferisce? Non lo so, perché chiedere alla Meloni? Non lo so.